Sembra un po' di ripercorrere la storia di Al Capone, arrestato per evasione fiscale. Ha dominato la malavita di Chicago, controllato il mercato degli alcolici ai tempi del proibizionismo ed è stato il mandante di un numero imprecisato di omicidi della strage di San Valentino. Ma quello fu l'unico modo di fermarlo. Il caso della filovia tra Pescara e Montesilvano aveva per lungo tempo impegnato ambientalisti e cittadini a organizzare picchetti contro il deturpamento del verde pubblico, l'inquinamento elettromagnetico capace di far ammalare i cittadini residenti e alla fine a fermare definitivamente i lavori è stata la presenza di barriere architettoniche dimostrata dall'Associazione Carrozzine Determinate. Stop a questo scempio. Prima che si realizzi qualsiasi opera era necessario ed è necessario che tutte le barriere architettoniche venissero eliminate ed ora non a chiacchiere ma con la presentazione di un progetto vero e proprio. La notizia arriva a fine maggio quando a Pescara l'amministrazione blocca i lavori a seguire la scia poi l'amministrazione di Montesilvano che decreta l'ufficialità dello stop ai lavori. Proprio oggi infatti sarebbero dovuti ripartire. Claudio Ferrante esprime dunque tutta la soddisfazione per un passo che definisce civile nel rispetto dei diritti dei disabili. Oggi sarebbero dovuti partire i lavori. In realtà il comune di Montesilvano, noi ringraziamo il sindaco Francesco Maragno, l'assessore Paolo Cilli perché fortunatamente hanno bloccato i lavori e soprattutto hanno chiesto alla GTM quello che noi chiedevamo da anni, cioè l'ABC praticamente, un progetto di variante, di abbattimento di tutte le barriere architettoniche.